La terra dell'Etna può essere impiegata e quindi non è un semplice rifiuto, noi vogliamo affrontare la discussione stamani anche perché i catanesi e non solo stanno facendo i conti con la cenere dell'Etna lungo le strade della città, noi ne vogliamo parlare insieme all'assessore Alessandro Porto del Comune di Catania, assessore alla protezione civile. Intanto assessore buongiorno, l'abbiamo svegliata presto stamani e vi abbiamo fatto venire qui in studio, come sta intanto? Bene, no veramente mi alzo tutte le mattine alle 7, devo dire che lo faccio anche io con calma perché mi è stato spiegato che quando ti alzi la mattina lo devi fare con degli step in modo tale che la giornata... Ma ieri quando si è svegliato e ha visto tutto nero, che ha pensato? No di notte, veramente alle 2, 2 e mezza perché noi siamo collegati e abbiamo attivato il cocco quindi già eravamo, mi sono arrivati i primi messaggi, mi sono arrivati i primi messaggi dal nostro responsabile dottore Romano e quindi chiaramente noi siamo sempre purtroppo in allerta e questa situazione abbiamo già capito che stava creando delle difficoltà. Ricordiamo che la cenere significa le strade intasate, significa le strade piene di terra e quindi pericolo per i nostri cittadini. Già alle 3, 3 e mezza c'erano le macchine che pulivano la città proprio per permettere dalle prime ore della giornata a chi si recava al lavoro di farlo con la massima sicurezza. Tra l'altro lo vogliamo ricordare anche per chi si trova in questo momento in auto e quindi sta guidando, ricordiamo che il comune di Catania ha emesso un'ordinanza che impone, che limita la velocità da attuare quindi a bordo delle auto a 30 km orari proprio per la presenza della cenere in strada. Un intervento necessario per cercare di limitare quelli che possono essere le conseguenze spiacevoli. Lei subito ha fatto riferimento prima al COC, al centro operativo comunale, attivato ovviamente alla protezione civile. Ecco, in questi casi cosa scatta, quali meccanismi scattano? Allora, innanzitutto bisogna partire dalla base, cioè noi praticamente siamo collegati con la centrale Soris che è una centrale istituita, una piattaforma informatica della protezione civile regionale che è stata istituita nel 2000 e che tutte le varie rappresentanze territoriali della protezione civile siamo collegati insieme chiaramente alla prefettura, quindi quando si attiva un COC perché c'è chiaramente un allarme e allora immediatamente si attivano tutti i canali come appunto quello della Soris che ci supporta perché chiaramente in questo caso soltanto la provincia di Catania è stata colpita e quindi siamo in continuo collegamento con la prefettura e con la protezione civile regionale. In questi casi cosa prevede il piano? Il piano prevede appunto l'attivazione del COC, immediatamente la comunicazione alla Soris che chiaramente collega tutti appunto le basi che ho citato poc'anzi in collegamento con la prefettura e poi il monitoraggio come per esempio quello che abbiamo fatto noi immediatamente far uscire le macchine e capire direttamente qual è la situazione anche di pericolo o meno e poi quindi in questo caso come è successo per esempio ieri mattina abbiamo il COC significa comunque il coinvolgimento di tutte le direzioni quindi in questo caso per esempio abbiamo chiesto grazie appunto alla presenza dei vigili urbani e della direzione ambiente del mio collega Assessore Cantarella Fabio Cantarella che subito immediatamente si sono attivati e hanno mandato le spazzatrici per pulire appunto le strade. Lei ha fatto riferimento all'Assessore Cantarella anche perché come dire per il comune di Catania quando cade la ceneri dell'Etna sono dolori anche per le casse comunali perché andare a ripulire la città dalle ceneri dell'Etna è spesa di non poco conto. Assolutamente d'accordo guardi e soprattutto per noi che viviamo come noi cittadini, i radioascoltatori, che la città di Catania è in uno stato di dissesto quindi non abbiamo risorse in più per poter spendere come in questo caso ma soprattutto bisogna anche dire proprio ieri parlavo con il dottore Coscina l'eruzione vulcanica non ha una tempistica certa quindi questa eruzione potrebbe anche durare parecchio tempo e quindi la cenere ce la possiamo ritrovare comunque anche spesso e quindi bisogna pensare come ha detto bene lei all'inizio a qualcosa di diverso è impensabile nel 2021 che la cenere non si deve utilizzare anzi io posso anticiparvi che sono stati stanziati circa 5 milioni dalla regione siciliana e pare altri 5 milioni dal governo nazionale proprio per pensare non soltanto alla pulizia delle strade ma pensare anche a dei strumenti, a dei macchinari che consentono di riutilizzare la cenere che poi è la cosa anche più logica cioè fare un uso di quello che chiaramente madre natura ci ha dato anche se in questo caso potrebbe essere vista come un aspetto negativo noi dobbiamo trasformarlo in qualcosa di utile Assessore c'è da coordinare una macchina a dir poco complessa, lei prima faceva riferimento anche al coinvolgimento di tutte le direzioni e io penso ai cittadini che devono fare i conti anche con lo smaltimento della cenere che hanno raccolto sui terrazzi, sui cortili, sui balconi anche questo come dire deve fare parte di un piano ma questo purtroppo nelle parti private noi non possiamo intervenire certo bisognerebbe soprattutto per le aziende che magari subiscono dei danni che sappiamo tutti tutti che già da due anni soffrono problemi economici dovuti appunto al lockdown ai problemi che conosciamo tutti di questo maledetto virus che ci accompagna ormai da troppo tempo sarebbe anche opportuno prevedere anche qualcosa per quanto riguarda l'aspetto economico alle aziende che comunque subiscono danni immaginiamoci le attività agricole o le attività che comunque comporta un ritardo anche proprio dovuto anche appunto alla presenza di questa cenere per i macchinari, il pericolo appunto di rovinare anche qualche macchinario milionario perché comunque questa cenere si infiltra ovunque magari non si è predisposti per dei filtri e quindi magari maggiori spese perché comunque poi bisogna organizzarsi meglio perché comunque la cenere fa veramente molto danno perché è abbastanza anche corrosiva ma lo sentiamo credo anche nell'aria, quando respiriamo le strade sono stracolme oggi forse la mascherina ci aiuta in tal senso però si percepisce che c'è un'aria diversa rispetto a quando chiaramente non c'è la cenere respiriamo anche con difficoltà Prima abbiamo fatto riferimento al provvedimento che ha emanato il Comune per quanto riguarda gli automobilisti lo ricordiamo ancora una volta il limite a 30 km orari che è stato fissato per percorrere le strade comunali le strade di Catania ma non solo, il problema si pone anche per i cittadini che camminano a piedi che camminano sui marcipedi perché il rischio di scivolare è presente anche lì Assolutamente d'accordo anche perché appunto il tempo nelle poche ore non si possono pulire contemporaneamente migliaia di metri quadrati di territorio proprio per questo bisogna pensare a qualcosa di diverso rispetto soltanto all'intervento di pulizia a cui siamo abituati spero che si ci possa veramente trovare una soluzione e quindi anche non solo farne un utilizzo diverso soprattutto a beneficio del nostro territorio, della cenere stessa ma soprattutto anche che si possa prevedere con dei mezzi quindi rafforzare con dei mezzi in caso di come è successo per esempio io voglio ricordare che Lanci ha fatto un bando dove il Comune di Catania ha partecipato e noi ci siamo giudicati soldi per la colonna mobile questo in caso chiaramente di calamità come appunto potrebbe essere un terremoto quindi noi abbiamo soffitto di questi soldi abbiamo già comprato e stiamo ancora comprando altri mezzi che servono, spero mai, in caso di terremoto, di supporto non solo per la città di Catania ma anche per tutto il territorio nazionale allora io credo che questi sono gli interventi che bisogna fare anche a livello nazionale proprio per questi eventi straordinari cioè quindi farne un uso migliore o soprattutto a beneficio del territorio della cenere ma soprattutto pensare come appunto poter intervenire nel più breve tempo possibile ed evitare i rischi dei nostri cittadini e ricordiamo anche i ciclomotori, per esempio la gente, ormai tanta gente va in motorino bisogna anche pensare che il fatto c'è gente che ormai ha solo il due ruote quindi il pericolo, l'ordinanza che impedisce la circolazione significa danneggiare queste persone perché magari non possono regarsi presso il proprio posto di lavoro quindi sono delle cose che magari non si ci pensa ma in effetti poi sono determinanti anche per la vita quotidiana dei nostri concittadini Assessore, se la situazione si dovesse aggravare la protezione civile interverrà immediatamente? Guardi, su questo io credo che la protezione civile ringrazio veramente tutti tutti gli uomini, i volontari soprattutto che si citano poco ma che fanno veramente un lavoro straordinario in qualunque caso e in qualunque momento riescono sempre ad essere presenti e a dare il loro contributo determinante per qualsiasi tipo di intervento come i Vigili del Fuoco Noi tra pochissimo ne parleremo perché c'è stato un fine settimana a dir poco rovente in Sicilia Catania è stata salvata da questo ma vorremmo capire esattamente quali consigli dare specialmente ai proprietari dei terreni agricoli purtroppo c'è la pubblicità, la devo fermare ma torneremo tra pochissimo per parlare di questo e non solo Siamo in diretta con la nostra segna stampa abbiamo prima bloccato l'assessore alla protezione civile del comune di Catania Alessandro Porto che stava cominciando a parlare subito di Vigili del Fuoco fatto riferimento al fine settimana rovente che si è registrato in Sicilia fortunatamente Catania per molti aspetti è stata salvata ma ricordiamo bene le immagini di mesi addietro di anni addietro alla playa di Catania un giorno di passione letterale ecco quali suggerimenti, quali indicazioni bisogna dare ai proprietari dei terreni e quali ordinanze sono state messe cosa impone il comune alle persone che appunto sono proprietarie dei terreni agricoli Allora noi ogni anno già nel mese di febbraio-marzo emettiamo, quindi il sindaco emette un'ordinanza di quelli che sono chiaramente tutti gli aspetti propedeutici per i cittadini per esempio entro il 15 di giugno devono provvedere a ripulire tutte le arie che sono soggette appunto ad incendio che quindi sono magari pieni di erbacce secche e che quindi a rischio e tutta una serie chiaramente di preclusioni come per esempio appunto non accendere fuochi dal 15 giugno al 15 di ottobre e chiaramente poi tutto questo se non si fa e quindi si va incontro a delle sanzioni e soprattutto se dovesse causare qualcuno un incendio e quindi magari danneggiare le arie non soltanto quelle di proprietà ma quelle anche limitrofe chiaramente il danno poi viene ripercorso nei confronti del proprietario quindi bisogna stare attenti bisogna essere secondo me vigili anche in questo caso soprattutto non soltanto per l'aspetto economico ma soprattutto per la salute e per l'ingolumità di chi chiaramente magari è il nostro vicino o magari della proprietà stessa perché chiaramente è anche un pericolo per le persone ci possiamo sempre trovare dei bambini che giocano soprattutto se sono delle aree aperte quindi stiamo attenti non lesiniamo interventi perché la salute e la vita dei cittadini è più importante di qualsiasi altra cosa Assessore dell'esperienza a cui facevo riferimento prima il Comune di Catania ne ha tratto tesoro quale insegnamento possiamo comunicare Guardi io devo dire da quando il mio sindaco Salvo Pogliese che secondo me ha ad oggi svolto un grande lavoro per questa città dico in tutta la squadra io credo che la squadra che oggi rappresento ha lavorato in maniera straordinaria una squadra di Assessori giovani ma che comunque conosciamo il territorio e che abbiamo ricordo a me stesso ereditato una città in dissesto una città in difficoltà e che invece ha ottenuto grandi risultati mi permetta anche di ricordare l'ultimo che Catania è tra le prime cinque città d'Italia per quanto riguarda la maturità digitale quindi significa che fino a qualche anno fa noi ci dovevamo vergognare come ho provato io personalmente regandomi a Milano al primo incontro oggi con tutto il rispetto ci vado agli incontri come quello fatto qualche settimana fa con soddisfazione e orgoglio e soprattutto si percepisce il rispetto da parte degli altri perché il lavoro è stato fatto bene la stessa cosa credo per quanto riguarda la protezione civile che è un tema che spesso magari le amministrazioni sottovalutano ma che il sindaco Pogliese personalmente ha attenzionato e che abbiamo insieme tant'è vero che ha istituito la direzione presso il gabinetto quindi diretta lui e che insieme a me abbiamo sempre lavorato in sintonia con gli uffici con le poche risorse perché voglio ricordare che abbiamo pochissimi uomini e quindi soltanto grazie al lavoro del volontariato riusciamo spesso a soddisfare chiaramente quelle che sono le esigenze e gli interventi eccetera l'esperienza guarda le dico l'esperienza due anni fa è stata personale io sono stato allertato dal presidente dei LIDI il dottore Ragusa ho chiamato io personalmente la polizia municipale innanzitutto perché il primo problema che mi sono posto è anche quello dell'incolumità perché un incendio alla playa i bagnanti erano a mare quindi immediatamente poi i vigili del fuoco protezione civile hanno allertato quindi anche grazie alla prefettura tutte le autorità competenti ricordo benissimo soprattutto il lavoro straordinario fatto da tutti gli uomini non ne dimentico neanche uno polizia municipale protezione civile vigili del fuoco corpo forestale capitaneria di porto non so se vi ricordate la scena degli uomini straordinari della capitaneria di porto che con i mezzi di navali si sono recati presso i liti per salvare le persone che non riuscivano a uscire dal Lido dove chiaramente erano in quel momento ospiti per cercare di passare una giornata straordinaria con i loro figli quindi un lavoro veramente straordinario ricordo anche che il problema dell'incendio non è solo un problema del fuoco ma è un problema anche dei fumi quindi intossicazione pericolo di intossicazione anche per gli addetti lavori e su questo bisognerebbe anche aumentare io proporrò al prossimo bilancio di inserire delle somme proprio per cercare di rafforzare non soltanto i mezzi le macchine eccetera eccetera ma anche di avere quegli strumenti che consentono proprio in questi casi come appunto possono essere le maschere per protezione anche delle vie respiratorie ma credo che il governo dovrebbe dedicare un po' di più risorse un po' di più impegno su questa materia che ormai è quotidiana dal virus ricordo anche il lavoro straordinario della protezione civile per assistenza a tutta l'attività sanitaria di tutti i medici, gli infermieri e tutti coloro che si stanno impegnando per cercare come dire di tra le vaccinazioni e i tamponi di combattere questo virus vi dico la protezione civile anche in questo caso è presente ad assistere a supportare insieme a tutte le forze dell'ordine perché chiaramente non bisogna dimenticare i carabinieri, la polizia, quelle di finanza che sono sempre presenti grazie anche al lavoro di sua eccellenza il prefetto con il questore che facciamo i tavoli tecnici che sono importanti e propedeutici proprio per spesso evitare anche delle superficialità o delle incertezze che potrebbero invece poi portare anche a delle situazioni di grande difficoltà e quindi il lavoro di squadra paga il lavoro di squadra paga quindi un grazie veramente a tutti e per quanto riguarda l'esperienza è stata veramente traumatica perché poi comunque ti fai prendere anche un po' dall'ansia, dalla paura di quello che non vedi di quello che potrebbe succedere ma grazie devo dire al lavoro di tutti non ci sono stati morti e che comunque siamo riusciti a come dire risolvere un po' quello che chiaramente era un problema che poteva essere ancora molto più grave L'ordinanza quindi lo diciamo è stata già emessa anche da tempo che obbliga i proprietari dei terreni a mantenerli puliti ricordiamo anche l'altra ordinanza che impone di mantenere i 30 km orari a causa della presenza della cenere in strada Assessore noi la ringraziamo per essere stato stamattina in nostra compagnia noi tra pochissimo continueremo la nostra segna stampa ancora c'è tanta edicola